In primo luogo voglio ricordare che sia la gestione delle migrazioni che il cambiamento climatico sono due grandi priorità delle istituzioni europee, in particolare della nuova commissione che il presidente Juncker presiede. In questo senso l'Unione Europea è un attore globale, come sappiamo, per tutti gli appuntamenti internazionali sul cambiamento climatico. C'è stato l'Accordo di Parigi che ci vede tutti impegnati e la settimana scorsa c'è stato il COP22 a Marrakesh, cui l'Unione Europea ha portato un contributo decisivo. In particolare vorrei soffermarmi sulla dimensione migrazione in relazione al cambiamento climatico e ai cambiamenti ambientali. Direi che il link tra cambiamento climatico, cambiamenti ambientali e migrazione è relativamente nuovo nella dimensione internazionale e anche a livello europeo. Ce ne stiamo occupando in maniera più decisiva a partire dal 2012-2013. Sappiamo che ci sono degli eventi, diciamo, estremi, disastri ambientali, su cui la conoscenza che abbiamo non è probabilmente esaustiva, ma direi è abbastanza solida. Ci sono cifre, ci sono rapporti, abbiamo, diciamo, una base su cui fondarci. Quando ci riferiamo viceversa a cambiamenti più lenti, desertificazione, impoverimento dei suoli, depoperamento delle risorse ittiche, siccità, lì diventa più complicato. Le interazioni sono complesse e sicuramente non è agevole individuare, diciamo, degli elementi che sono validi in ogni situazione. Da questo punto di vista, l'evento di questi due giorni, la conferenza internazionale che la Fondazione Enrico Mattei e l'Ufficio di Rappresentanza di Milano della Commissione Europea hanno voluto organizzare, costituiscono, diciamo, un'occasione importante per soffermarsi sulla conoscenza che abbiamo, sulle esperienze che abbiamo a questo riguardo. Come dicevo, la migrazione è una priorità, è notorio che abbiamo delle sfide in termini di pressioni migratorie sull'Europa che ci vedono impegnati, però bisogna anche ricordare che la migrazione, soprattutto quella che è legata a elementi climatici e ambientali, vede soprattutto i paesi del sud del mondo in prima linea. Già oggi, nell'Africa subsahariana, due terzi della migrazione è di carattere interna o regionale, nell'Africa occidentale anche più di due terzi. E questo sarà sempre più, diciamo, lo sviluppo nel futuro. Questi paesi vedranno sempre di più popolazioni che si spostano o all'interno dello stesso paese oppure da un paese all'altro nella stessa regione. Questo ovviamente avrà un impatto su situazioni che sono già di fragilità, di vulnerabilità, di pressione su risorse che diventeranno sempre più scarse, su fragilità e crisi. Quindi abbiamo un obbligo, abbiamo un interesse anche a aiutare questi paesi, queste regioni ad affrontare queste sfide. Come stiamo facendo questo? In che modo intendiamo farlo? In particolare per quanto riguarda la politica di sviluppo europea lo stiamo facendo secondo, diciamo, tre livelli. Il primo livello è il livello, diciamo, della infrastruttura generale del nostro intervento. La Commissione ieri ha adottato due proposte importanti. La prima è il nuovo consenso per lo sviluppo in cui si tracciano le linee guida della politica di sviluppo del futuro in linea con i nuovi obblighi internazionali degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'agenda 2030, ma anche una proposta per le relazioni dopo il 2020 tra l'Unione Europea e i paesi Africa, Caraibi e Pacifico. In entrambi i documenti gli elementi come cambiamento climatico, energia, ambiente e migrazione hanno un'importanza capitale. Poi abbiamo, diciamo, delle iniziative che mirano a mobilizzare risorse nell'immediato per affrontare le sfide più urgenti. L'anno scorso, in connessione con il Summit della Valletta, con un certo numero di stati del Nord Africa e dell'Africa subsahariana, è stato lanciato un fondo fiduciario per l'Africa per affrontare, diciamo, le questioni di stabilità e di immigrazione irregolare, che è stato dotato di un capitale di partenza di 1,8 miliardi di euro e che recentemente è stato rafforzato con mezzo miliardo di euro. In questo campo stiamo affrontando una serie di situazioni specifiche proprio in aree che soffrono di una notevole pressione da un punto di vista, diciamo, del cambiamento climatico e ambientale per anche affrontare, diciamo, quelle cosiddette cause profonde della migrazione, andando a intervenire proprio in zone che sono più, diciamo, hanno una vocazione a produrre migrazione, diciamo, più forte di altre zone. Poi abbiamo anche lanciato, la Commissione ha lanciato un piano esterno di investimenti che mira a mobilizzare capitale privato, diciamo, con un effetto leva rispetto al capitale iniziale investito per aiutare, diciamo, i nostri partner africani a costruire le infrastrutture di cui hanno bisogno proprio per, diciamo, affrontare le sfide che menzionavo. Approvvigionamento idrico, gestione dell'agricoltura, sviluppo sostenibile delle città, in generale tutto ciò che ha a che fare, diciamo, con uno sviluppo del territorio sostenibile. L'ultimo livello è un po' quello che attiene proprio alla gestione della mobilità e della migrazione. Fino a un passato recente questo non era un elemento, diciamo, costitutivo delle relazioni con i paesi terzi, in molti casi abbiamo sviluppato delle azioni, ma non era, diciamo, un elemento così prioritario come è divenuto negli ultimi, diciamo, diciamo, 18 mesi, due anni. Stiamo introducendo, diciamo, la gestione della mobilità, della migrazione nella relazione con i paesi terzi e in particolare stiamo fornendo un aiuto sostanzioso per aiutare questi paesi a sviluppare legislazione, capacità amministrativa, capacità di cooperare con i partner regionali o a livello internazionale per una gestione sostenibile delle migrazioni. Questo, peraltro, è completamente in linea con l'Agenda 2030 che per la prima volta ha visto la migrazione come uno degli obiettivi, diciamo, di sviluppo sostenibile. Quindi, in conclusione, siamo perfettamente consapevoli delle sfide che ci attendono, stiamo approntando una serie di risposte che consentono di, diciamo, fornire soluzioni nel breve e medio periodo, ma anche di affrontare delle sfide di più lungo periodo che, diciamo, altre regioni del mondo si trovano ad affrontare. Direi, peraltro, che visto che l'Europa è circondata da zone che hanno una forte vulnerabilità a shock ambientali e climatici, è nel nostro interesse farlo. Grazie.